Amici di Una Liguria, tutta la gustare, oggi ci troviamo nella Baia del Sole e più precisamente ad Alassio. Gustosa città da mare per i suoi locali in un mare di spiaggia sopra fine. A questo punto non ci resta che tuffarci nella magica atmosfera di uno dei più suggestivi ristoranti dove il gusto trionfa a 360 gradi. Benvenuto ad amare Messier Ego, si accomodi. Messier Ego, buongiorno, oggi come antipasto le propongo incontro di gamberi, carciofi e grana, flam di funghi con fonduta di toma, ma io mi permetto di consigliarle tartare di tonno con cialda di pasta figlio. A questa tartare di tonno con cialda di pasta figlio ci siamo permessi di abbinare un vermentino rigore, uno strano. Anche il pane, pensate, è fatto in casa. Signor Giuseppe, complimenti per l'ambiente che ha saputo creare. Messier, da mare, un locale, un nome poliedrico, in tutto, nelle scelte, nell'ambiente, nell'atmosfera, nei gusti e nel bere. Sego, oggi di primo abbiamo troffietta al pesto, cannellonia napoletana, ma io vorrei consigliarle spaghetti alle sarde fresche con finocchietto selvatico, uvette e pinocchi. Questo piatto lega particolarmente bene con questo bianco siciliano, la segreta del planeta. Pepe, al damare, l'atmosfera, non manca mai! Grazie Messier, in abbinamento ai nostri piatti, solo musica selezionata. E adesso fuori i secondi! Il fighetto di maiale all'aceto balsamico, ma io vorrei consigliare oggi la nostra morbidissima tagliata di chianina. Un bicchiere di moroghino di scansano che si sposa a meraviglia. Beppe, sono stupito dalla particolarità del menù. 21 antipasti, 21 primi, 21 secondi per accontentare i vostri gusti per tutta la settimana. E adesso dal damare al mare con un dolce da gustare. Bavarese torroncino. Messier, ciliegina sulla torta. Damare è... Una nostra esclusiva!